Creme brulee alla liquirizia Partiamo a bollore il latte con la panna, immergiamo le nostre chicche di liquirizia e le portiamo fino a scioglimento totale del composto. Andiamo a separare i tuorli dagli albumi e lavoriamolo con lo zucchero. Sbianchiamo bene il composto, una volta sciolto le liquirizie andiamo a immergerlo all'interno del composto a base di uovo e andiamo a mescolare bene il tutto. Trasferiamo il composto negli stampi e successivamente poi nel forno a 100-120 gradi per circa 25 minuti. Una volta pronto il nostro composto lo andiamo a raffreddare, andiamo a cospargere la superficie con dello zucchero grezzo di canna e andiamo a cannellarlo per bene rendendolo caramello. Decoriamo con una salsa a base di mango, un fruit passion tagliato a metà e il nostro dolce è pronto. Grazie a tutti.